La sconfitta rimediata ieri dal Milan a Firenze contro la Fiorentina con i rossoneri che fino a pochi minuti dalla fine del match conducevano la gara per 1-0 non ha migliorato la situazione di Filippo Inzaghi anche se Adriano Galliani nel post-gara ha rinnovato la sua fiducia al tecnico rossonero Gaetano Mocciaro. Sì, a questo punto si andrà avanti con Inzaghi fino al termine della stagione perché oramai a 11 giornate dal termine del campionato è praticamente inutile cambiare anche se l'andazzo stagionale del Milan è stato francamente disastroso i numeri dei rossoneri sono negativi come non mai l'ultima volta che la squadra ha vinto appena 8 partite 30 anni fa è stata l'ultima volta ed era un Milan fresco appena risalito da un anno in Serie B quindi questo insomma la dice lunga. Il futuro di Filippo Inzaghi è comunque segnato a giugno le strade si separeranno il Milan sta già cercando il possibile identikit per il nuovo allenatore insomma si parla di Maurizio Sarri dell'Empoli ma attenzione alla pista Sabeglia che potrebbe veramente essere la soluzione ideale per i rossoneri anche per insomma dare un tocco internazionale a questa squadra Parliamo adesso della Roma con il periodo nero dei giallorossi che sembra veramente senza fine anche ieri all'Olimpico un altro KO con la Sampdoria per 0 a 2 ed il futuro di Rudy Garzia adesso è tutto da scrivere Marco Conterio Sì tutto da scrivere o meglio la Roma sta già cercando provando a scriverlo già fatto da tempo James Pallotta ha detto il nostro allenatore del futuro Mauro Baldissoni il direttore generale del club ha detto resta con noi però le parole del tecnico francese Ex Lille Elemann che dice non voglio essere un peso per nessuno tireremo i conti faremo i conti a fine stagione lasciano qualche dubbio abbiamo fatto oggi un po' un focus cercando di capire quali siano le percentuali di permanenza degli allenatori io su Garzia il 100% non l'abbiamo messo insomma il 90% abbiamo lasciato questa piccola percentuale perché l'imponderabile nel calcio è sempre possibile è ovviamente lui il candidato a rimanere anche sulla panchina della Roma che c'è questo sogno Ancelotti ma sembra veramente più una chimera che una realtà però è chiaro che debba cambiare qualcosa la Roma deve virare deve cambiare sicuramente momento anche perché i giocatori ci sono c'è tanta qualità ma effettivamente qualcosa si è rotto quindi è da capire credo che la sosta per la nazionale faccia benissimo più di ogni altra squadra alla Roma più che alle milanesi perché lì davvero potrà riflettere sedersi Garzia, i suoi giocatori e la dirigenza e dire ok abbiamo sbagliato un grosso periodo finora adesso è il momento di ripartire Vi abbiamo raccontato dei momenti difficili di Roma e Milan chi invece sembra aver trovato la strada giusta verso il terzo posto e verso un trofeo è la Fiorentina di Vincenzo Montella Gianluca Losco Beh sì, verso un trofeo lo vedremo sicuramente ieri la Fiorentina ha dato una grande risposta nella rimonta contro il Milan soprattutto alla sconfitta della settimana precedente contro la Lazio è una partita che al 50% è stata vinta proprio dal tecnico Vincenzo Montella che durante l'intervallo ha fatto due cambi molto importanti ha messo Badel che si sta pian piano ambientando sempre di più e soprattutto Joachim che è stato l'uomo della partita a questo punto è possibile che Montella resti anche a Firenze insomma in passato si era parlato di un rapporto inclinato anche dopo la cessione di quadrato adesso le cose stanno tornando sui binari giusti e quindi è possibile che lo stesso Montella decida di proseguire il rapporto anche a seconda chiaramente di ciò che avverrà se dovesse arrivare a una qualificazione in Champions è chiaro che potrebbe allettare alla finestra restano sempre altri club come il Milan e il Napoli c'è da capire insomma Benitez cosa farà però sicuramente per la Fiorentina potrebbe essere una risorsa importante anche per l'anno prossimo